Un avvio difficile, però poi avete fatto un secondo tempo praticamente perfetto. Un avvio difficile per il gol preso, ma per il resto è chiaro che nei primi minuti c'era da superare l'impatto dello stadio, del blasone della squadra avversaria, ma non c'erano state occasioni clamorose per cui potevamo prendere un po' di spavento. A parte il gol subito, io credo che anche nel primo tempo la mia squadra si sia ben comportata, mettendo comunque in difficoltà una squadra che è tra quelle più in forma del campionato, che veniva da diversi risultati utili, consecutivi. Poi nel secondo tempo i ragazzi hanno avuto una crescita esponenziale, si sono ripresentati in campo andando a macinare il gioco, cercando di creare ancora occasioni da gol. È proprio nel migliore momento nostro, abbiamo subito il gol del 2-0 e questo dà ancora più gioia a questa vittoria, perché in un momento di sofferenza, in un momento di sconforto questi ragazzi hanno tenuto sulla testa e hanno continuato a lavorare. Abbiamo fatto un brutto secondo tempo, ma già gli ultimi dieci minuti del primo tempo non erano stati all'altezza e l'avevo detto nello spogliatoio. È capitato e ci serve da lezione. Cosa rimprovererà i suoi ragazzi e soprattutto teme che questo percorso di crescita che avevate instaurato possa bloccarsi dopo una sconfitta del genere? Non temo niente, io lavoro, ho fiducia nella mia squadra e quindi non accetto niente in questo momento, se non l'analisi di una partita come abbiamo sempre fatto anche quando abbiamo vinto.